Allora, buongiorno a tutti. Noi abbiamo voluto organizzare questo momento di riflessione sugli esiti e risultati di fatto della legge di stabilità per manifestare tutta la nostra delusione rispetto ai contenuti di quella che doveva essere la grande occasione, più volte evocata anche dal Presidente del Consiglio Letta per dare risposte significative al dramma economico e sociale che sta vivendo il Paese in questo momento, in particolare per quanto riguarda il lavoro. Mi sembra evidente che tutti i proclami più volte ribaditi in occasione anche del voto di fiducia, anche recentemente, si siano alla fine miseramente scontrati con la realtà, una realtà in cui da le imprese ai sindaci è arrivato un fuoco di fila direi quasi interamente sottoscrivibile dalla parte nostra rispetto agli risultati e gli esiti di queste grandi ambizioni. Quindi, grande delusione sotto tanti profili, grande delusione anche perché alla fine la legge di stabilità si è ridotta a essere quello che era la vecchia legge finanziaria tanto biturperata, cioè una serie di distribuzioni e approccia di finanziamenti e contributi a destra manca per accontentare questa, quella corrente politica, partito politico singolo parlamentare. Tutto ciò doveva essere in qualche modo parte del passato, appunto la legge di stabilità ha cambiato proprio anche nome plasticamente soltanto due anni fa per rispondere a questo tipo di aspettative, cioè dare delle grandi risposte sui grandi temi di politica economica ci siamo ridotti a centinaia e centinaia di commi appunto che inseguono questo, quel piccolo particolare, conferma che probabilmente questo Paese non riesce veramente a svoltare pagina. Noi naturalmente con le nostre forze abbiamo lottato in commissione, in aula ci è precluso perché come al solito viene emessa la questione di fiducia, chiudo dicendo che la fiducia che probabilmente l'Aula darà è in palese contraddizione con la fiducia che ha dato soltanto qualche dieci giorni fa a Letta, le piccole e misere cose che ci sono in questa legge di stabilità non sono assolutamente in qualche modo conciliabili con le grandi aspirazioni e le grandi ambizioni richiamate da Letta per la fiducia precedente. Mi fermo, do la parola a Borghesi e poi a Guidesi per il contenuto delle nostre azioni. Grazie, io sottolineo il fatto come i lavori della commissione si siano protratti tra interruzioni, rinvii, sospensioni notturne, diurne, insomma un po' di tutto di più che ha dato la dimostrazione del fatto di come questa maggioranza sia disunita, sia eterogenea, sia litigiosa. Infatti i lavori di commissione si sono protratti per diversi giorni e diverse notti soprattutto per delle difficoltà evidenti che si sono manifestate all'interno delle diverse componenti di maggioranza. Appunto perché questa maggioranza ha preso questa legge di stabilità non tanto come un'occasione per rilanciare con delle politiche vere e concrete sui problemi, sulla risoluzione dei problemi reali che la nostra gente vive a partire dai problemi del lavoro, a partire dai problemi della disoccupazione, a partire dai problemi delle nostre imprese che continuano a chiudere e a delocalizzare, in quanto in questo Paese purtroppo non vi è più una capacità, non vi sono più le condizioni per poter fare impresa e per poter creare lavoro. Questa maggioranza ha preso questa legge di stabilità semplicemente come un modo per allocare le ultime risorse disponibili e allocarle ai soliti amici, amici di amici, con tutta una serie di provvedimenti, centinaia di commi che non vanno nella direzione di creare delle politiche vere sul lavoro, di creare delle politiche per combattere la disoccupazione, di creare delle politiche per favorire le nostre imprese oppure per alleviare i nostri enti locali da questo patto di stabilità che li sta strangolando, bensì tutta una serie di misure come quelle che andiamo a elencare adesso che sono puramente assistenziali, ne cito alcune come le 120 assuzioni a tempo indeterminato alla Presidenza del Consiglio per cercare di gestire quelli che sono i fondi dell'Unione Europea oppure le assunzioni collegate per le attività di comunicazione del semestre europeo per 2 milioni di euro. Ancora una volta sono stati rinnovati i contratti per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo per una cifra esorbitante pari a 110 milioni di euro così poi come i lavoratori socialmente utili della Regione Calabria per altri 25 milioni di euro. Quindi qui c'è una chiara impronta assistenzialista, dall'altra parte abbiamo visto che sono state prese delle misure solamente parziali per un altro problema che noi reputiamo gravissimo e vergognoso come è il problema degli esodati, ai quali questa legge finanziaria ha dato solo delle parziali risposte sottraendo dalla normativa una grandissima platea di esodati che oggi devono ancora avere delle risposte che questo governo e questa maggioranza ancora non gli ha dato. Quindi qui vediamo chiaramente un'impronta assistenzialista e il fatto che questa maggioranza invece di destinare tutti questi milioni per delle politiche concrete di aiuto a problemi reali come quelli degli esodati preferisce continuare ad esempio a sperperare soldi come nei lavoratori socialmente utili. Quindi ci sono tutta una serie poi di contributi che a nostro modo di vedere sono vergognosi ed inaccettabili che nulla hanno a che vedere con la legge di stabilità che dovrebbe essere approvata per stabilire delle politiche a più ampio respiro. Ne cito solo alcuni tanto per fare degli esempi come fondi stanziati di 1,5 milioni per i prossimi tre anni per l'assunzione di nuove guardie forestali e anche questa cosa qui è significativa perché ormai saremo arrivati al punto di avere più forestali che alberi in questo sciagurato paese e a livello pratico dall'approvazione così come uscita in commissione di questa legge di stabilità non vediamo assolutamente un cambio di passo. È stata per noi una grandissima delusione e quindi non possiamo che dichiararci assolutamente contrari e delusi da questa politica, di questo governo, di questa maggioranza che altro non ha fatto se non accontentare amici di amici e che di fatto se ne è fregata dei veri problemi del paese e sta facendo e sta continuando a far pagare il peso di questa crisi al nord, ai lavoratori del nord e alle imprese del nord. Grazie, buongiorno anche da parte mia. Io aggiungo poco rispetto a quello che ha detto il Presidente l'Onorevole Borghesi. Se non il fatto che noi in questi giorni abbiamo parlato di legittimità, della legge di stabilità proprio per i motivi che diceva il Presidente prima, cioè non è conforme alla normativa per la quale dovrebbe essere strutturata, è stata trasformata da una legge diciamo strutturale di programmazione ad una quasi legge mancia dove vengono premiati e finanziati interventi microsettoriali, territoriali e noi facendo un conto, facendo una valutazione a percentuale l'abbiamo anche definita in questo giorno, abbiamo trasformato o definito il governo in questi giorni come il Bancomat del Sud, visto che gran parte degli interventi microsettoriali, quasi la totalità, vanno a finire al Sud. Il dato di fatto dal punto di vista politico credo sia quello che la legge di stabilità non è conforme al programma che ha stirato il Presidente Letta quando è venuto a richiedere la fiducia la scorsa settimana alle Camere, poiché lui ha parlato di riforme, ha parlato di lavoro, ma questa legge di stabilità non è la base di quello che ha detto il Presidente del Consiglio, per cui non vedo come possa essergli d'aiuto il prossimo anno nel 2014. È ovvio che ci vorrebbe Matteo Renzi per capire se questa legge di stabilità è una legge di stabilità preelettorale o no, perché insomma le tensioni all'interno del Partito Democratico, Borghesi lo diceva prima, si sono anche assolutamente verificate pubblicamente all'interno dei lavori della Commissione. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, abbiamo fatto diverse proposte per pulire la legge di stabilità da quelle che abbiamo definito marchette che si sono riscontrate, che sono veramente innumerevoli, addirittura alcune sono arrivate l'ultima notte dei lavori di Commissione con un emendamento del relatore e che vedete poi sull'elenco che abbiamo stilato. Abbiamo anche cercato di rispondere a delle esigenze che dal nostro punto di vista sono le esigenze prioritarie, parlo principalmente della questione lavoro e della questione sicurezza, insomma sulla questione lavoro si è già detto però tutto questo elenco di marchette, se la totalità di queste cifre fosse andata a dare una mano ancora di più agli esodati probabilmente non avremmo a spasso ancora alcune persone che oggi non sono assolutamente coperte. Aggiungo che se si fa un conto specifico su quanto può essere l'abbassamento, la diminuzione del cuneo fiscale, tanto spesa in questi giorni di lavoro sulla legge di stabilità, si nota perfettamente che l'abbassamento del cuneo fiscale non è proporzionale all'aumento delle tasse che c'è stato nei mesi scorsi, cioè se si abbassa il cuneo fiscale di 12 euro al mese per un lavoratore e poi gli si fa pagare la benzina con l'aumento della cise di benzina molto di più di prima, per lui ci sarà un esborso rispetto all'anno precedente facendo il saldo e non una diminuzione, una capacità di aumento dei consumi. In questi mesi sono state aumentate praticamente tutte le tasse che potevano essere ancora aumentate, per questo noi riteniamo la strumentalizzazione e la comunicazione fatta dal governo sulla diminuzione del cuneo fiscale una vera e propria presa in giro. L'altra questione è che non riguarda solo le leggi di stabilità, anche se tanto c'è qua dentro, ma è la stabilizzazione del personale pubblico e l'assunzione di un nuovo personale pubblico. Cioè la domanda che noi ci poniamo è questa cosa risponde alle indicazioni dell'Unione Europea? È conforme con i dettati di spending review più volte spesi dal Presidente del Consiglio? Noi siamo convinti con tutto quello che è stato fatto in questi mesi dal punto di vista del personale pubblico, che il rischio è quello che il prossimo anno non si rispetti il rapporto deficit-pil del 3%, che la spesa pubblica aumenti ancora, anche se era già previsto un sostanziale aumento nel documento di programmazione economica che è stato presentato. Però siamo ancora in una gestione assolutamente assistenzialista e questa è la cosa che noi denunciamo, è la cosa che ci preoccupa di più, ma soprattutto ancora una volta ci preme sottolineare il fatto che il Presidente del Consiglio all'interno della propria attività comunicativa, anche quando viene in aula a presentare il proprio programma, che oramai varia di tre mesi in mesi a seconda dell'agenda di uno delle altri, che sia il Segretario del suo partito, che sia il Presidente della Repubblica, ci rendiamo perfettamente conto che le sue parole non hanno mai una conseguenza nei fatti. Per cui il dato di fatto è essenzialmente questo. Loro sono riusciti a fare una cosa che credo che mai era riuscito a fare prima nessuno, cioè a raccogliere, ad unificare le critiche da parte di tutta l'opinione pubblica, non solo dei cittadini, ma parlo delle parti sociali, parlo dei sindaci, visto che si sono spesi molto a livello comunicativo rispetto alla flessibilizzazione dei vincoli del patto di stabilità per gli enti locali, poi non hanno fatto assolutamente nulla, se non averlo inasprito con la manovrina che qualcuno magari si ricorda di qualche mese fa. In più io ci tengo a sottolineare la questione di un specifico intervento che non c'entra assolutamente niente con la legge di stabilità e qua chiudo che è quello relativamente all'insegnamento delle centrali elettriche, delle centrali turbogas, dove all'interno della legge si dice che per le centrali insediate dal 2002 in poi non si debbono pagare gli oneri di urbanizzazione. Questo è un aiuto abbastanza anche evidente, nel senso non è neanche nascosto, a Sorginia e a De Benedetti, prendendo atto addirittura di un contenzioso che è in corso tra un ente locale e tra un comune e l'azienda dove il comune Altara ha vinto il proprio ricorso e chiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte di Sorginia. Qui il governo è intervenuto, il governo interviene per la prima volta prendendo la parte non dell'ente locale come dovrebbe fare, ma prendendo la parte di un privato, è una cosa che non sta nel cielo né in terra, come non sta nel cielo né in terra che un provvedimento di questo tipo entri in legge di stabilità, se volevano rivedere questa cosa potevano fare un provvedimento sull'energia, una programmazione dal punto di vista del potenziale di produzione energetica del Paese in base ai consumi e quant'altro così, però questa cosa è evidente. Noi abbiamo cercato di sopprimerla come abbiamo cercato di sopprimerla e tutte le altre questioni che per noi sono ingiuste nei confronti dei cittadini, sono assistenzialiste, non ce l'abbiamo fatta perché sia il governo che la maggioranza hanno difeso a spada tratta quello che loro hanno presentato e hanno arricchito i danni fatti dal Senato dal punto di vista degli interventi microsettoriali con altri interventi microsettoriali facendo in modo che se qualcuno era stato accontentato al Senato, qualcuno della maggioranza venisse accontentato anche la Camera, chiudendo una legge di stabilità che ai cittadini non serve assolutamente nulla. Grazie, c'è qualche domanda? Per sintetizzare pensiamo che questa legge di stabilità l'unica cosa che stabilizzi è la recessione, quindi se intendeva stabilizzare la recessione credo che il governo ci sia riuscito.